Alleluia 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io vi proteggo sempre per l'intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa di Maria addororata, conceda al Signore la salute del corpo e la consolazione dello Spirito. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.